La canzone, allora, dai! E questo è il giambello. A me si suona così, la conga, quelle doppie. Ma tu devi sentire il fado, è ugualissima la musica napoletana, veramente. E fai una mezza canzone, tu devi dare le parole così. Come è? Non hai corta senza tela non querrai ser castigana. Olhi alla laranjina che è in ferro o regalto d'acqua e non mai si vio non hai mai suonato, non hai mai suonato, non hai mai suonato, non hai mai suonato, non hai mai suonato. Perché questo è un tabuco che noi senniamo a cornice e fa la stessa cosa di questo. Ora sto suonando un po' africano se no dopo c'è il fado. Com'è il fado? Questo è la musica napoletana. Il fado di Bordele. la mia mania quando morrou la mia mania quando morrou e io chbach perché hai molto am follen per allora dire al mondo per allora dire al mondo per allora dire al mondo ai Dio me volu! mi louvò", ai Dio me volu, ai Dio... National Health Ministerial Noi si, noi si. Amalia Rodriguez ha questa canzoncina così. Io sono meglio con le chitarre che con il tambù, tutta la vita ho lavorato sempre con le chitarre, se c'avevi il mandolino e queste cose. Mio nipote li puoi rinunciare, non è maestro di chitarre. Ecco il tuo marito, guarda che ti ho cantato tre canzoni. Ok, bravo, grazie. Questi sono i simboli del Portugale, la musica della Strematura, quella prima che ho cantato, che è il confine della Spagna dove entra il tago, che è del folklore nostro, dopo quell'altra è legata a Mario Rodriguez e Cafonzo, che è la canzone di Porto, lettere di amore e baila. A me piace pure quella là con il... C'è pure una bella voce alta, o mi sbaglio, non ti imparro un po'. Fai solo una parola così. Dio solo una parola un po' più acuta, come dite voi? Più alta. Ehm, che amore mi fai dire il proprio ragazzo. Allora, come è la... quella che canto sempre? Un amore che mi deixò, o si renda, si renda, e vuoi dire a si renda, da no tempo, da azeitone, a si renda no a... La signora Zana. Questo è un album. Ok, grazie. È male, ma anche... Stango. bravo grazie